I carabinieri della stazione di Cianciana hanno denunciato un uomo di 55 anni per omessa consegna di armi e munizioni, ricettazione e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura. Nell'ambito di una serie di controlli effettuati in zone rurali hanno proceduto al controllo dei terreni agricoli di proprietà dell'uomo in contrada ferraria distante pochi chilometri dal comune rimmenendo 21 munizioni calibro 12 per fucile e circa 300 grammi di polvere da sparo detenute illegalmente. Ed ancora nel corso dell'attività all'interno di un fabbricato adibito a deposito di attrezzi e materiali agricoli i carabinieri hanno trovato rinchiusa in una gabbia molto piccola un esemplare di coturnice siciliana appartenente alla categoria della fauna selvatica e per questo motivo considerata norma di legge patrimonio indisponibile dello Stato. Il volatile era in precarie condizioni di salute fisicamente impossibilitato a muoversi con un'ala spezzata e la parte posteriore visibilmente deteriorata a causa del continuo sfregamento con una parte della gabbia. I militari dell'arma hanno continuato le ricerche e trovato qualcosa come oltre 70 trappole per volatili e per piccoli mammiferi. Tutto il materiale comprensivo di munizioni, polvere da sparo e trappole per animali selvatici è stato sequestrato. La coturnice siciliana è stata immediatamente affidata per le successive cure al centro provinciale di recupero fauna selvatica e tartarughe marine di Cattolica Araclea. Di tutto ciò è stata data comunicazione di reato alla procura della Repubblica di Sciacca.